Grazie a tutti Grazie a tutti che ho scoperto di avere un tumore al seno Era gennaio 2019 Nel giro di due settimane ho avuto la diagnosi esatta del mio tumore carcinoma duttale infiltrante e ho avuto la caratterizzazione completa del tumore che tipo di cellule, che recettori erano espressi la dimensione, la posizione nella compagine mammaria A marzo, due mesi dopo la mia diagnosi ho fatto l'operazione chirurgica per rimuovere il tumore a maggio ho cominciato la radioterapia e nel frattempo il mio tumore veniva sottoposto a ulteriori test ed esami Quando sono arrivati i risultati di questi test è stato un altro momento difficile Il mio tumore era piccolo i linfonodi erano puliti quindi buone notizie ma era molto più aggressivo del previsto cattiva notizia Praticamente un tumore sardo come me piccolo ma agguerrito Il fatto è che il rischio era che il tumore si ripresentasse e quindi alcuni dottori spingevano perché cominciasse la chemioterapia ma non tutti erano d'accordo e quindi per decidere da farsi la squadra di dottori che seguiva il mio caso decise di sottoporre il mio tumore a un ulteriore test un test genetico Questo è un test che analizza le espressioni di 21 geni del tumore e sulla base dell'espressione di questi 21 geni può prevedere il rischio che il tumore si ripresenti Se il rischio è alto la chemioterapia è indicata Il mio risultato è arrivato a giugno ed era intermedio e quindi non ho fatto chemioterapia A giugno ho ripreso una vita normale e adesso sono qua Sono stata fortunata Fino a 20 anni fa il trattamento per il tumore al seno come il mio era chemioterapia per tutte le pazienti era uguale per tutte le pazienti ed era spesso inefficace Ben presto ci si rese conto che non tutte le donne rispondevano Alcune pazienti ricevevano il farmaco ne subivano i devastanti effetti collaterali ma non ne traevano un beneficio terapeutico E quindi la comunità scientifica ha iniziato a domandarsi perché? Perché alcune donne rispondono e altre no? Oggi sappiamo perché Oggi sappiamo che c'è un'immensa variabilità nei tumori al seno Praticamente non esistono due tumori uguali ed è per questo che non rispondono tutti allo stesso modo, allo stesso trattamento Per esempio ci sono tumori come il mio che esprimono alti livelli del recettore per l'ormone estrogeno e questi tumori possono essere trattati con una terapia ormonale Ma ci sono altri tumori al seno che esprimono un altro recettore che si chiama HR2 e questi altri tumori possono essere trattati con un farmaco che si chiama erseptina che agisce su questo recettore Sulla base dell'espressione di 21 geni come abbiamo visto nel mio caso si può prevedere se un tumore risponde o no alla chemioterapia Questa si chiama medicina di precisione e ha rivoluzionato l'oncologia Medicina di precisione vuol dire poter offrire a ogni paziente un trattamento individualizzato ottimizzato per il sottotipo di tumore che quel paziente ha Per me medicina di precisione ha voluto dire andare nel giro di sei mesi da una diagnosi esatta alla cura mirata per il mio tumore Sei mesi Adesso vi voglio fare una domanda Sapete quanto ci vuole per avere una diagnosi di una malattia neurodegenerativa come il Parkinson o l'Alzheimer? Vi do qualche numero Nel caso della sclerosi multipla, due anni Per il Parkinson, un anno Per la sclerosi amiotrofica laterale, un anno Per l'Alzheimer, due anni E questo è il tempo che ci vuole per avere la diagnosi Quando dopo uno o due anni la diagnosi arriva non c'è cura per queste malattie sono incurabili E allora la mia domanda è Perché? Perché non possiamo andare nel giro di sei mesi dalla diagnosi alla cura per una malattia come il Parkinson? Se ci siamo riusciti per il tumore al seno perché non ci riusciamo per le malattie del cervello? Ora, una risposta che può venire in mente abbastanza semplice è che il cervello è un organo molto complicato E questo è vero Io sono una neuroscienziata, ve lo posso confermare è così Ma non è l'unico elemento Secondo me c'è qualcos'altro che manca Ed è di questo che vi vorrei parlare oggi Secondo me manca oggi in neurologia una medicina di precisione come esiste per l'oncologia Non abbiamo una medicina di precisione in neurologia oggi perché fino ad oggi abbiamo dato per scontato che non ci servisse Abbiamo dato per scontato che i pazienti che si presentano con queste malattie siano fra di loro più o meno tutti uguali Ma è così Prendiamo l'esempio dell'Alzheimer È possibile mostrare come progredisce la malattia in un paziente con un grafico come quello che vedete alle mie spalle Qui vedete il tempo, i mesi E qui vedete una misura della memoria A valori bassi corrisponde una perdita di memoria Quindi prendiamo un paziente Diciamo che abbiamo il signor Carlo Il signor Carlo ha avuto la sua diagnosi Poi la sua memoria è stata misurata a intervalli regolari per tre anni E come potete vedere ci sono stati degli alti e bassi Ma nel complesso la memoria del signor Carlo è peggiorata Ora, cosa succede se mettiamo insieme i dati di più di 200 pazienti? Questo è quello che vediamo Questi sono dati pubblicati Voi cosa vedete? A voi sembrano tutti uguali questi pazienti? A me no Io vedo pazienti che rimangono stabili Pazienti che peggiorano Alcuni precipitosamente Altri in maniera più graduale E ce n'è un paio che persino migliorano Ma allora, com'è possibile? Com'è possibile avere tutta questa variabilità Se tutti questi pazienti hanno la stessa diagnosi? Quello che succede È che oggi la diagnosi che possiamo offrire a un paziente con l'Alzheimer È una diagnosi clinica Che si basa sull'analisi del sintomo che il paziente presenta E il sintomo in Alzheimer è perdita di memoria Quindi tutti questi pazienti Si sono presentati alla visita con un sintomo simile di perdita di memoria Ma vi posso dire che questi pazienti possono avere un sintomo simile Ma molto probabilmente non hanno la stessa malattia Per esempio Alcuni di questi pazienti accumulano nel loro cervello Un peptide tossico che si chiama beta-amiloide Che si accumula sotto forma di placche Che possono essere visualizzate con diagnostica per immagini Con PET, come vedete qui La presenza di queste placche è un'indicazione diagnostica molto chiara di Alzheimer Ma ci sono anche pazienti Che presentano esattamente gli stessi sintomi Dei pazienti che hanno le placche Ma nel loro tessuto cerebrale Non troviamo amiloide Questi pazienti accumulano un altro peptide tossico Che si chiama TDP43 Questo tipo di demenza si chiama leite Ed è appena stato scoperto Con la risonanza magnetica Possiamo analizzare alterazioni nella massa E nella struttura del tessuto cerebrale E possiamo identificare la presenza di lesioni vascolari Queste a loro volta possono essere una causa di declino cognitivo E quindi è qui Che entra in gioco la medicina di precisione Perché è chiaro che non ha senso Trattare tutti questi pazienti Che hanno patologie diverse allo stesso modo Non avrebbe senso per esempio dare a tutti questi pazienti lo stesso farmaco Diciamo un farmaco anti-amiloide Perché solo i pazienti che hanno l'amiloide possono rispondere al farmaco Gli altri no Eppure vi stupirà ma è proprio così che abbiamo fatto gli studi negli ultimi dieci anni Perché fino a pochissimo tempo fa non era possibile caratterizzare i pazienti Ma oggi è diverso Oggi grazie al progresso della tecnica abbiamo una serie di biomarcatori Che ci permette di caratterizzare a livello molecolare la patologia dei pazienti La capacità di caratterizzare la patologia cerebrale In ogni paziente è il punto di partenza per lanciare una medicina di precisione e neurologia Ma non basta È un po' come nel mio caso Quando ho avuto la diagnosi di carcinoma duttale infiltrante Quello è stato l'inizio Ma poi per identificare e ottimizzare il trattamento È necessario conoscere altri elementi È necessario conoscere la genetica È necessario conoscere per esempio l'età del paziente Lo stato sociale ha un'influenza E il sesso? È importante conoscere il sesso del paziente in Alzheimer Nel 2016 Con due amiche ricercatrici Per curiosità Abbiamo iniziato a raccogliere dati Sulle differenze in Alzheimer fra uomini e donne E sapete cosa abbiamo scoperto? Nella maggioranza degli studi clinici pubblicati fino a quel momento Non erano riportate le differenze fra uomini e donne Nella stragrande maggioranza degli studi preclinici Quelli fatti in animali da laboratorio Gli studi erano fatti in animali di un solo sesso O solo maschi o solo femmine E quindi non era possibile studiare le differenze Non ci sono dati Non è stato pubblicato Per dire se i farmaci che abbiamo testato negli ultimi dieci anni in Alzheimer Funzionino allo stesso modo negli uomini e nelle donne Abbiamo fatto tantissime domande E abbiamo trovato tantissima resistenza La gente ci chiedeva E perché? E perché dovrebbero esserci differenze fra uomini e donne? Abbiamo trovato moltissimi muri Ma abbiamo anche trovato moltissimi colleghi entusiasti Ed è stato sull'onda di questo entusiasmo Che abbiamo fondato un'organizzazione non profit Che si chiama Women's Brain Project Che si pone come obiettivo Quello di stimolare una discussione scientifica su questo argomento E ad oggi, tre anni dopo Anche grazie al lavoro del Women's Brain Project Sono moltissime le differenze sostanziali Fra uomini e donne che sono state descritte in letteratura In Alzheimer così come in altre patologie Per esempio, oggi sappiamo Che dal momento della diagnosi di Alzheimer Le donne progrediscono molto più velocemente degli uomini E guardate, questa è una cosa fondamentale da conoscere, da capire Perché vuol dire che il trattamento dovrà essere personalizzato anche in base al sesso E quindi oggi non ci chiedono più E perché dovrebbero esserci differenze Oggi ci chiedono E come possiamo usare queste differenze E la nostra risposta è Medicina di precisione Se vogliamo identificare dei nuovi metodi Per la diagnosi, la prevenzione e la cura dell'Alzheimer Dobbiamo conoscere e capire la variabilità fra i pazienti E questo vuol dire anche conoscere e capire la variabilità fra uomini e donne La buona notizia È che oggi Abbiamo tutti gli elementi nelle nostre mani Per lanciare una medicina di precisione in neurologia Abbiamo i biomarcatori Che ci permettono di caratterizzare i pazienti Abbiamo l'intelligenza artificiale Che ci permette di analizzare questa mole immensa di dati E abbiamo la comprensione Abbiamo l'idea di quello che ha senso andare a guardare nei dati Per esempio il sesso dei pazienti Se lanciassimo oggi Una medicina di precisione in neurologia Potremmo cambiare radicalmente la medicina di domani Sapete come mi immagino io una visita neurologica nel futuro? Io mi immagino che il paziente si sederà E il dottore analizzerà i suoi sintomi clinici E poi raccoglierà tutti i suoi dati I dati genetici I biomarcatori Le copatologie Forse anche il microbioma intestinale Il sesso chiaramente E poi tutti questi dati verranno inseriti in un algoritmo E con un click l'algoritmo dirà Qual è il sottotipo di Alzheimer specifico di quel paziente E sulla base di questo sottotipo Il dottore sarà in grado di indicare Il trattamento ottimizzato, individualizzato Per quel sottotipo specifico di Alzheimer In quel paziente In quell'uomo O in quella donna Riusciremo davvero ad andare nel giro di sei mesi Dalla diagnosi alla cura Per una malattia come l'Alzheimer? Io credo che con la medicina di precisione Anche meno Grazie 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 Grazie